signori pensati i sexy film del 2024 italiano commedia continuo a vederlo ovunque ci fanno iniziato a fare una pubblicità pesantissima questi qua di prime video diamogli un'occhiata più che altro perché c'è dentro la pornostar maria nappi no a parte gli scherzi sì anche per quello la commedia è stupidina piuttosto stupidina anche se alcune cose carine le hanno dette però è un 6 e mezzo veramente ha tirato la un film tanto per mischiato su un po di cose da guardare a mente libera basta così un saluto a tutti se volete iscrivetevi al canale se volete lasciate un like ciao ciao